Ciao a tutti ragazzi, oggi renderemo questa rosa immortale. In realtà questa è una rosa che ho già reso più longeva nel 2016 perché è la prima rosa che fiorì da una pianta che mi era stata regalata ed è una rosa a cui vengo particolarmente. Quindi non volevo che si perdesse così e che marcisse, perciò piuttosto che seccarla che non l'avevo mai fatto e avevo paura di non riuscire a salvare questo unico esemplare e mi sono occupato praticamente di disidratarla come si fa nei laboratori di istologia. Certo, una versione casalinga di questa disidratazione, però pur sempre questo tipo di tecnica perché ero più sicuro che avrebbe funzionato. Certo, un po' ha perso il suo colore, ma sono già 5 anni che è qui dentro e non si è ruinata. Oggi faremo un passo in più. È un esperimento ulteriore, quindi ho un po' paura di danneggiarla, però è arrivato il momento di provare a renderla veramente, veramente più longeva. Il primo segreto Quindi la prima cosa che dovremmo fare è rimuovere questa rosa dal barattolo con l'alcol. È un alcol al 99,9% E una volta fatto questo faremo sì che l'alcol evapori, perché vorrei trasferire questa rosa in resina, di quelle trasparenti che si vedono un po' ovunque ormai, e includerla lì. Il problema è che non so se l'alcol può rovinare la resa poi della resina. Quindi la rimuoviamo, la facciamo asciugare e intanto andiamo a lavorare il resto. A questo punto, come abbiamo appena detto, ci occupiamo della rimozione della rosa dal barattolino con l'alcol, stando attenti a non danneggiarla. Per far sì che asciughi al meglio la poggiamo innanzitutto su un foglio di carta assorbente. Come potete vedere in questi cinque anni ha mantenuto la sua forma e non si è danneggiata realmente è rimasta abbastanza integra. Io in questo caso comunque ho preferito appenderla a testa in giù, in modo tale che potesse mantenere il più possibile la forma, ecco. Ok, nel frattempo ci occupiamo della base, quindi in passato avevo preso questo tipo di base però appunto come disegnato vorrei farla circolare e quindi mi sono organizzato con una di queste al diametro di 5 cm. Proviamo a tagliarla da qui, a fare la base e subito dopo ci occupiamo della decorazione, infatti sto riscaldando già la colla a caldo. ce l'abbiamo fatta, è stato difficile ma ce l'abbiamo fatta. A questo punto dovremmo aggiungere il muschio. L'aggiunta del muschio è un dettaglio sia per fornire una base più solida alla rosa quando verrà messa lì su e sia per dare un aspetto differente, quindi avere una resa estetica migliore. Secondo me così ci siamo. Questo capirete dopo a cosa serve. A questo punto mi sono occupato della creazione dello stampo intorno alla base di legno. Per fare questo ho utilizzato un foglio di plastica trasparente abbastanza rigido e l'ho bloccato in posizione in modo tale che rimanesse adesso però vicino al legno. A questo punto mi sono occupato di incollare la rosa all'interno della base. Per fare questo ho utilizzato un po' di colla a caldo e ho posizionato semplicemente la rosa al di sopra. Ho dovuto fare questo per far sì che la rosa rimanesse nella stessa posizione durante la procedura successiva. Poi mi sono occupato della resina. Per fare questo seguendo le istruzioni ho dovuto mescolare nelle proporzioni indicate sulla confezione la componente A e la componente B avendo cura di non far formare delle bolle all'interno della resina e dopodiché mi sono occupato di fissare ed isolare lo stampo alla base in modo tale da non far cadere via la resina. Infine è arrivato il momento di colare la resina all'interno dello stampo facendo attenzione che non si creino troppe bollicine. In questo caso il video è velocizzato ma la resina va colata molto molto lentamente proprio per evitare le bollicine. Essendo la prima volta che facevo questo esperimento utilizzando per la prima volta questa resina qualche bollicina io purtroppo l'ho ottenuta però il risultato è rimasto abbastanza gradevole. Non ci resta che attendere l'asciugatura e la solidificazione della resina quindi aspettiamo 24 ore come indicato sulla confezione e vediamo cosa succede. Passate le 24 ore la resina è abbastanza solida e quindi rimuoviamo lo stampo e cerchiamo di liberare la nostra rosa. Come potete vedere l'effetto è abbastanza interessante e la rosa a questo punto è ben inclusa all'interno della resina. Ed ecco qui il risultato finale. Purtroppo essendo la prima volta che utilizzavo questa resina ci sono delle piccole imprecisioni e si è formata anche qualche bollicina però tutto sommato il risultato risulta abbastanza gradevole e anche la presenza di bollicina contribuisce a creare un effetto che a me personalmente piace molto. Se vi siete chiesti perché io abbia lasciato il foro del trapano nella base utilizzata per lo stampo la risposta è qui perché è possibile inserire al di sotto un led o una luce per poter dare un effetto illuminazione alla resina come se fosse una lampada. Eccola qui. Per essere il primo esperimento che ho fatto con questo tipo di resina mi posso ritenere abbastanza soddisfatto. Certo ci sono ancora delle bolle dietro si era un po' incollato lo stampo e quindi è stato rubato all'interno dell'inclusione però tutto sommato il risultato è abbastanza funzionale e siamo sicuri di avere dato ancora tempo a questa rosa. Il buchino che ho lasciato sotto come avete visto nelle foto finali e l'ho lasciato apposta per poter mettere una lampadina. Adesso luciderò solamente sotto magari metterò un protettivo per il legno e il lavoro sarà finito così. Non credo che farò ulteriori lavorazioni per evitare di rovinarla perché è appunto la prima volta che uso questa resina però l'esperimento è più o meno riuscito quindi sono contento. Spero che il video vi sia piaciuto mi raccomando iscrivetevi al canale o ai social seguitemi, iscrivetevi se avete dei dubbi e fatemi sapere se volete vedere come ho disidratato la rosa con la scala degli alcol. Quindi ci rivediamo al prossimo video, ciao a tutti!